Mi piace stare al parco durante l'autunno. Il libro è sul tavolo della cucina. Lui ha viaggiato in treno da Milano a Roma. La penna è sulla scrivania. La scatola è sotto al mio letto. Lei è andata al cinema con i suoi amici. L'ufficio postale è nella via principale. La mia borsa è a terra accanto alla sedia. Sono arrivato all'aeroporto in ritardo. Il gatto è sopra il tavolo della cucina. Il negozio è all'angolo della strada. L'aula è al secondo piano dell'edificio. La pizza è nel forno da dieci minuti. Il cane è uscito dal giardino per il cancello. Lucia è andata al mercato stamattina. A fine giornata il capo chiude l'ufficio. La casa di Giorgio si trova in collina. Non ho mai viaggiato in treno in vita mia. La conferenza si terrà in sala conferenze. Il libro parla della storia antica di Roma. In inverno mi piace passeggiare al parco. Tra i miei amici passo più tempo con quelli. Marta ha messo a tavola i piatti bianchi. Tra tutti i partecipanti solo tre hanno vinto. Quel bambino è sempre in movimento. Il museo egizio si trova nel centro città. Alla fine del libro l'autore fa una lista. Non riesco a trovare le chiavi della macchina. Fra due anni finirò la scuola. Da quanto tempo conosci Marco? L'ho comprata nuova un anno fa. L'estate inizia fra un mese. Non vedo Sara da due giorni. Ci sono già stato sei mesi fa. Un'ora fa stavo lavorando. Poco fa ho incontrato Roberto. Luca guida l'auto da tre anni. Sarò a Roma fra dieci giorni. Due giorni fa è venuto Paolo. Da quanto studi l'italiano? Fra un mese parto per la Spagna. I bambini dormono da poco. Fra un anno esce il nuovo film. Ti ho visto da qualche parte. L'auto di tua nonna è verde. C'è una lettera per te da Parigi. Claudia ha finito di studiare. Il vaso è caduto dal balcone. Luca è stato al cinema da solo. Oggi partite col volo del luna. Stiamo andando tutti da Paolo. Questo vestito è di due anni fa. Luca vuole qualcosa da bere. Hai una casa piena di quadri. Siamo usciti da quel negozio. Domani non ho nulla da fare. La porta è di nuovo chiusa. C'ero anch'io, ma non ti ho visto. Claudia e Luca sono a scuola. I tuoi amici non ci vengono. I tuoi amici non ci vengono. Non lo hai detto né pensato. Giovanni viene, ma non mangia. Puoi bere vino oppure acqua. Luca è stanco, quindi non viene. Luca è stanco, quindi non viene. Elisa non parla perché è stanca. Claudia dice che hai ragione. Siccome piove, uso l'ombrello. Te lo spiego così che tu capisca. Canto ogni volta che guido. Anche se è gennaio, fa caldo. Se piovesse, starei a casa. Bevo il caffè, solo se è lungo. È uscito come se avesse fretta. Adoro il blu, ma odio il verde. Mangio tutto tranne il pesce. Ho conosciuto il padre di Giorgia. Matteo è un dottore molto bravo. Matteo è il mio dottore da anni. Il mio professore è giovanissimo. C'è un gatto sul marciapiede. C'è il gatto di Ilaria sul prato. Ho trovato un paio di pantaloni. Claudio ha trovato un vestito. Abbiamo preso il nuovo telefono. Ho preso un brutto voto a scuola. Hai ottenuto il voto migliore. Luca è il più simpatico a scuola. Ho avuto una bellissima idea. Il medico è stato intervistato. Ci piace andare in discoteca il sabato. Ci piacciono le vacanze con gli amici. Mi piace l'Italia perché è un bel paese. Non mi piacciono i concerti in piazza. Le piace uscire quando non ha scuola. A loro piace andare spesso al cinema. Gli piace molto giocare a calcio. A loro piacciono i dolcetti al limone. Non ti piace molto stare a casa. Non le piacciono le partite di calcio. Gli piacciono le gare di automobili. Ci piace molto andare in montagna. La musica italiana mi piace molto. Questa casa non mi piace per niente. Appena lo incontri, digli di telefonarmi a casa. Luca insiste finché non ottiene ciò che vuole. Quando furono tornati, andarono a dormire? Dopo che furono tornati, andarono a dormire? Quando hai telefonato, lei era già andata via? Prima che tu lo venga a sapere da lui, te lo dico. Non guarirai finché non faremo un viaggio. Quando decidete di uscire, fatemelo sapere. Non passerà l'esame finché non si impegnerà. Dopo che fu uscita di casa, vide un'auto rossa. Si addormentò prima che il film terminasse. Appena ebbe finito di cenare, beve un caffè. Quando arriverà l'estate, andrò in vacanza. Ho studiato finché mi sono addormentato. Dopo che ebbi fatto la spesa, iniziai a cucinare. Lui lavora senza entusiasmo. Non può vivere senza soldi. Ha finito senza problemi. Non agire senza sicurezza. Te lo invio senza ritardi. Luca è senza educazione. Loro sono senza limiti. Non guido senza cintura. Molti sono senza casa. È rimasto senza parole. La pasta è senza sale. Devi stare senza pensieri. Il caffè è senza zucchero. Non esco senza giacca. Dici cose senza senso. Non voglio questa giacca. Voglio quella. Mi piace questo libro. Più di quell'altro. Butta via quella maglietta e usa questa. Non scrivere quelle parole. Scrivi queste. Preferisco questo vino invece che quello. Voglio questa sciarpa blu. Non quella viola. Non mangio questo cibo. Premerò quello. Non compro quei biscotti. compro questi. Hai visto quell'uomo? Quello altissimo. Faccio questa torta. Non quella al limone. Questa penna è mia e quella è di Luigi. Penso a quello che hai detto questa sera. Questo orologio è quello di mio padre. Queste sono le lezioni migliori dell'anno. Quello che ha parlato era mio fratello. Quelle di cui ti lamenti sono le mie sorelle. Questi studenti e quelli sono vecchi amici. Dove vanno tutti questi operai? Guardate questi quadri, non quelli. Poi ditemi quello che vi piace di più. Quanto costano quegli anelli in vetrina? Queste candele sono le più profumate. La macchina che voglio comprare è questa. Devo scegliere un vestito. Ti piace questo? Questi occhiali sono più comodi di quelli. Ho visto quel gatto ieri nel mio giardino. Penso che queste lasagne siano buonissime. Non so se questi edifici abbiano l'ascensore. Grazie. Grazie a tutti.